A poche settimane dalla data di inizio del Bifest, la Giunta non ha ancora definito e deliberato un finanziamento regionale. A Puglia Fincommission, nel caos, Massimo Braidi, missionario, è stato sostituito sì ma soltanto per il turismo e alla cultura è stata designata una consigliera senza deleghe e senza capacità di spesa. L'allarme è quello della giusta causa, associazione e movimento politico di centro-sinistra vicino al barese Michele Laforgia. Il Festival Cinematografico ha una data di avvio certa, che è quella del 26 marzo prossimo, per poi chiudere i battenti il 2 aprile, edizione nel segno di Pierpaolo Pasolini a 100 anni dalla nascita, attesa una retrospettiva dei suoi film, realizzata con Cinecittà, il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Cineteca Nazionale, compreso il patrimonio televisivo delle Techerai, tra le possibilità anche quella di portare al Cursale uno spettacolo teatrale con testi di Pasolini e coinvolgimento dell'Università di Mari, come di altri Atenei italiani. Almeno secondo la tabella di marcia dello scorso ottobre, le scosse interne alla Puglia Fincommission in compenso non si sono ancora fermate del tutto. Abbiamo evitato il commissariamento e che la Presidente diventasse doppiamente vittima perdendo l'incarico, affida alle agenzie Marina Samarelli, uno dei consiglieri di amministrazione freschi di nomina, in relazione alla vicenda che riguarda la presunta aggressione che la Presidente, Simonette Dell'Omonoc, ha denunciato di aver subito dal Direttore Generale Antonio Parente durante una lite, a temere nel frattempo il comparto, a dirla con le parole di confartigianato di categoria, che segnala quella che definisce una prolungata sospensione dell'operatività della Fondazione, tale da gettare nello sconforto le numerose imprese pugliesi del settore. Grazie.